Buongiorno a tutti, benvenuti negli uffici di Zerint, sono Angelica Punto e sono Marketing Specialist qui a Zerint e sono Conungo Scarperlini, Active Application Engineer, a parlare di Manutenzione 4.0. Abbiamo cambiato il focus dei nostri video e quest'ultima serie si tratterà l'argamento della manutenzione. In particolare oggi siamo un po' più generici, quindi cerchiamo di capire che cos'è la manutenzione 4.0 e perché si parla anche di data-driven. Ciao a tutti, la manutenzione 4.0, che cosa la differenzia? Come hai detto tu, il data-driven, cioè creare nuove strategie di manutenzione rispetto a quelle classiche che sono la reazione ad un guasto o la pianificazione fatta a periodi di tempo, mensili, annuali, semestrali, anche in questo caso in maniera data-driven. E lo si può fare su più livelli, non occorre subito pensare ad intelligenze artificiali, ad esempio, ma anche una semplice analisi dei dati può portare a conclusioni che non ci si aspettava. L'esempio classico è l'utilizzo in ore di una macchina. Tipicamente cambi come olio, cambi di parti meccaniche, sono fatti in ore di utilizzo. Di fatto, non essendo monitorate le ore di utilizzo, specialmente nelle macchine vecchie, proviamo a pensare a vecchie officine meccaniche in cui ci sono anche turni degli anni 80, vengono di fatto schedulate in maniera trimestrale, semestrale, perché più o meno potrebbe corrispondere alle ore di utilizzo. Quindi un impatto immediato che si può avere, ad esempio, senza l'utilizzo di chissà quale tipo di algoritmo di machine learning, potrebbe essere tracciare il numero di ore. Ok, quindi questa è anche la differenza tra manutenzione programmata e manutenzione predittiva. Esattamente. Cosa fa Zerint e come possiamo dire che la tecnologia IoT fa manutenzione predittiva o manutenzione programmata? Da un lato in parte come la sostenibilità. La manutenzione predittiva è una conseguenza della storia che noi raccontiamo delle macchine. E quindi, ad esempio tramite una pinza amperometrica, capire quando la macchina lavora, quante ore la macchina lavora, può portare alla conclusione più immediata. Dire la mia macchina in questo mese ha lavorato, spariamo X tempo, esatto, che corrisponde a un terzo del mio periodo fino alla prossima manutenzione. Questo può portare a dire, ok, andando avanti così tra due mesi dovrò programmare la mia nuova manutenzione e quindi non aspetto più di fatto il guasto, ma programmo. Il livello successivo è se nel mese successivo ho lavorato un numero diverso di ore, posso già pensare di riprogrammare questa manutenzione e quindi non è più una data fissa. In questo modo, quindi, la programmazione appunto non è più fissa ma diventa dinamica e può guidare altre decisioni che possono essere decisioni connesse ai MES, agli ERP e quindi a tutto l'ecosistema della produzione. Quindi creare una vera e propria sinergia tra i dati che vengono estratti dalla macchina e le decisioni che vengono poi prese. Esattamente. Come primo livello, ripeto, potrebbe essere un approccio banalissimo come quello di monitorare le ore. Naturalmente poi con vari algoritmi si possono monitorare un'infinità di parametri. Un caso di manutenzione predittiva lo racconteremo in uno dei prossimi video, che in quel caso non comporta l'utilizzo di una pinza ma era un caso completamente diverso, ma possono esserci anche analisi di temperature di utilizzo, assorbimenti anomali di corrente. Tutto quello che viene, diciamo, monitorato nel tempo può essere analizzato e quindi possono essere analizzate anomalie che portano a farsi domande. Una domanda, ma secondo te, anche secondo la storia o i clienti, gli Zerint, quant'è la consapevolezza degli imprenditori nel ciò che sta facendo la propria macchina? Cioè sanno la maggior parte delle volte che dati vogliono estrarre oppure non sono consapevoli dell'importanza del data driven? Ad oggi sono pochi. Lo slancio è avvenuto in parte per motivi fiscali, in parte per un'integrazione con i sistemi, ma la potenza dell'informazione che viene fuori a seguito di questa analisi viene riconosciuta molte volte solo in seguito. Difficilmente, anzi specialmente nel caso della manutenzione predittiva, molte volte ci viene richiesta quando le macchine non hanno neanche un una collezione dati e addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale senza dati è impossibile. È sostanzialmente magia. E quindi è proprio questo il percorso. Prima si digitalizza un'azienda, si crea un primo strato che potrebbe essere quello appunto di monitoraggio delle ore con la pinza, da cui già si può avere un cambio di paradigma del tipo di manutenzione che si fa. Dopodiché, una volta che i dati vengono collezionati su di questi, avendo costruito uno storico solido di mesi o anche anni, si possono cominciare a creare algoritmi più o meno complessi a seconda del caso che si vuole risolvere. Va bene, grazie mille, grazie Ugo, grazie a tutti. Nei prossimi video continuiamo a parlare di manutenzione 4.0 andando più nel dettaglio e capendo qual è il processo da seguire per applicare azioni di manutenzione predittiva o programmata. Grazie a tutti e rispondete, mi raccomando, ai nostri sondaggi sui social per capire di più su manutenzione 4.0. A presto! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!